Oggi l'angolo delle primatezze preparerà una ricetta utilizzando le tagliatelle al pistacchio del pastificio Il Matterello. Se avete visitato il nostro sito avrete notato che abbiamo già postato due ricette in collaborazione con questo pastificio che ha sede a Bronte. Oggi la ricetta prevede le tagliatelle al pistacchio con panna, speck e funghi. Io ho già messo a rosolare uno scalogno tritato con olio extravergine d'oliva e sto per aggiungere 80 grammi di speck tagliato a mano all'isteregne. 180 grammi di funghi champignon vanno bene anche quelli sgocciolati della natta oppure se preferite quelli secchi da tagliare al momento. Li faccio appena rosolare ricordandomi di aromatizzare il tutto con due spezie molto buone che esaltano la carne dello speck, il pepe nero e la salvia che rievoca un po' il sapore deciso del rosmarino però lo si distingue perché è ancora più erbaceo, più forte. La quantità è per due persone quindi stiamo parlando di circa 200 grammi di tagliatelle. Non appena si rosolerà al meglio aggiungeremo la panna. Ora, Grazie a tutti. Grazie a tutti.